Innanzitutto per Immaginami, per gli amici che ci seguono in rete, un ringraziamento per il lavoro fatto, per le idee lanciate, per i commenti, per i 57 mila milanesi che hanno scelto la Lega, per i 9 mila che hanno messo la preferenza a Matteo Salvini e dopo il ringraziamento un impegno. Il nostro lavoro continua, anzi all'opposizione, perché questo risultato elettorale sarà ancora più importante, più presente e più dialogante di prima, quindi non solo non chiuderemo nessuno dei canali aperti, ma anzi raddoppieremo gli sforzi nella città, nelle sedi per continuare a parlare di cultura, per portare avanti i progetti che abbiamo presentato in campagna elettorale in cui credo, quindi dalle case dell'acqua, le case per i single, dalle biblioteche aperte la sera a San Vittore che diventa la grande biblioteca europea, continuiamo a raccogliere proposte, idee, a confrontarci, perché secondo me spassionatamente su questo ha perso il centro-destra e la Moratti a Milano, sulla mancanza di dialogo, sulla mancanza di confronto e sulla mancanza di ascolto e noi raddoppiamo la voglia di ascoltare e di raccogliere le proposte dalla rete ai mercati, ai teatri, alle parrocchie e ci siamo, ci siamo, continuiamo a esserci, quindi mi raccomando non è finita la partita, adesso controlleremo con un'opposizione intelligente quello che farà Pisapia, se ci saranno scelte da condividere lo appoggeremo, se ci saranno scelte negative dal nostro punto di vista per Milano ci opporremo, però continuiamo a costruire mattone dopo mattone, contatto dopo contatto, post dopo post, quello che è un percorso che durerà 5 anni, ma riproponendoci di tornare a governare Milano fra 5 anni.